Ciao a tutti, siamo molto felici di essere qui, rappresentanza della Camera di Commercio di Badermain e del punto Imprese Digitale, che aiuta le imprese nel percorso della digitalizzazione. Sono qui insieme alla dottoressa Giuseppe Messina, che è la Digital Promoter, io sono concettavato la Digital Coordinator, queste sono nuove terminologie di cui non ci siamo abituati, ma anche di cui ci dobbiamo abituare, specie quelle della mia età, diciamo i giovani, infatti chiediamo aiuto ai giovani in questo percorso, in cui le aziende e noi dobbiamo sostenere. Come Punta Imprese Digitale di Palermo e Anna, sono molto contenti di sostenere questa iniziativa e che mica è il migliore.